Andiamo dietro le quinte della nuova serie Disney, Violetta. I tecnici, i truccatori e gli attori si preparano per la registrazione del videoclip di Violetta e Mimundo. Benvenuti, stiamo girando il videoclip di Violetta e Mimundo. Questo videoclip rappresenta il momento in cui Violetta cerca di entrare allo studio 21 facendo un'audizione e poi improvvisamente dallo studio ci ritroviamo qua. Violetta immagina di stare con tutti i ballerini davanti al pubblico cantando. Volete vedere un passo della coreografia? Per Violetta la canzone Mimundo è un incoraggiamento a realizzare i propri sogni senza mai arrendersi. Vi piace la coreografia? Allora restate lì, così imparerete a ballarla anche a casa. Violetta, da lunedì al venerdì alle 20.10, replica alle 14, solo a Disney Channel.